e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per farvi vedere la frankstein junior italian fans edition questo nuovo unboxing contiene edizione voluta dai fans un film davvero spettacolare ovviamente anche questa è un edizione limitata a tiratura numerata e contiene il cappellino del film la tazza la t-shirt l'ombrello e il libro eccola qua contiene il dvd del film più il dvd extra creato dai fans i gadget del film e questa qui c'è il bollino dove dice che la mia è la numero 2685 su 8000 copie in tutto il mondo questo è il retro contiene il dvd ovviamente doppio disco cappellino tazza ombrello t-shirt del libro controlli speciali del disco disco 1 e disco 2 ora andiamo ad aprire e eccolo qui frankstein junior do not use this brain is abnormal non usare questo cervello è abnormale originale fox poi abbiamo la tazza una lunga amicizia molto carina anche questa la t-shirt molto bella anche questa c'è l'ombrello che queste cose non li aprirò mai poi il libro è bello essere tutte le migliori battute del film nel brooks eccolo qua e poi all'interno abbiamo come l'ultima cosa il dvd italian fans edition la commedia più divertente del mondo frankstein junior eccola qua l'edizione come doppio disco e niente questa era tutto la confezione tutto il contenuto della confezione e rimettiamo tutto all'interno com'era mettiamo qui la maglietta la tazza che mettiamo qui e il cappellino chiudiamo la confezione e questa era l'unboxing di frankstein junior italian fans edition mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video